Salve a tutti! Che differenza c'è tra credere nella Terra piatta nel credere che l'asino vola, dato che la scienza non dà verità ma cerca di avvicinarsi la verità progressivamente senza raggiungerla mai, essa è tale solo se falsificabile, almeno in linea teorica. Per spiegarvi bene cos'è il falsificazionismo dovrei fare almeno 10.000 video, per ora accontentatevi di questa breve definizione provvisoria. Dato che non sono un biologo, né uno zoologo, né un veterinario non ho mai studiato in vita mia gli asini dal punto di vista scientifico, e non sono nemmeno un fisico o un ingegnere, io non ho idea di come funziona il volo scientificamente o di come far volare un oggetto, quindi io per poter affermare che l'asino vola o non vola dovrei essere un esperto in materia, non posso parlare senza sapere. Tornando al discorso sul falsificazionismo, se la scienza fin ad ora sostiene che l'asino non vola non è detto che questo assunto sia vero per sempre, magari tra qualche anno la scienza studiando gli asini scoprirà che in realtà essi volano, o a limite che potrebbero volare, o che potevano volare in passato e che con l'evoluzione hanno perso questa capacità, ma anche scoprire un modo per farli volare con la tecnologia. Qual è la differenza con la teoria della Terra piatta? La Terra potrebbe essere piatta, a noi non cambierebbe nulla, sembrerebbe più razionale degli asini che volano, perché nessuno ha mai visto gli asini volare mentre noi vediamo la Terra come se effettivamente fosse piatta. Anche per la forma della Terra noi dobbiamo studiare per poter affermare che si è sferica o piatta, come dicevo prima. La Terra piatta non è il tentativo di superare un paradigma scientifico obsoleto. Essi tentano di farci credere che la Terra sferica sia impossibile e che il paradigma Terra piatta. La scienza crede che l'asino non vola perché basandoci sulle attuali conoscenze scientifiche gli asini non volano. Non ci sono complotti per impedire agli scienziati di dimostrare il contrario. Semplicemente fino a prova contraria la scienza dice che l'asino non vola. Invece i terrapiattisti devono inventarsi cose per cui ci occulterebbero la presunta verità, ad esempio dicono che le immagini dello spazio sono false, e che la NASA è tutta una montatura. Anche se le immagini della Terra sferica fossero false, è difficile falsificare il fatto che il Sole compie una traiettoria apparentemente curva intorno alla Terra, oppure che esso appare più grande quando sorge e tramonta e si rimpicciolisce man mano che si alza nel cielo e si ingrandisce di nuovo man mano che tramonta. Per i terrapiattisti invece il Sole e la Luna dovrebbero rimanere alla stessa altezza, non salire o scendere. È difficile falsificare il fatto che gli oggetti spariscono oltre la curvatura o che il Sole o il resto del mondo non sono visibili con un telescopio per via della curvatura, e potrei andare avanti all'infinito. Gli asini potrebbero volare mentre non li vediamo ma la Terra rimane sferica anche se non la vediamo. Per questo ritengo più razionale credere negli asini che volano che nella Terra piatta. Aspetto i vostri dislike. Per il momento questo è tutto, alla prossima.